Il Coro degli Usignoli di Candela Il Coro degli Usignoli di Candela Il Coro degli Usignoli di Candela bene allora ci vediamo dopo domani signorina no maestro giovedì allora no maestro non vero più perché? ha deciso di non continuare a studiare no maestro e perché allora? perché sono innamorata di lei grazie